Benvenuto, signore autorità, civili, religiose, militari, colleghi, magistrati e soprattutto personale della polizia penitenziaria, collega e amico Andrea del Mastro e l'astro della nostra distinguale, che è un po' il protagonista di queste giornate. Noi nel programma di governo abbiamo detto di essere dei garantisti. Garantismo significa declinazione di due concetti, che poi sono quindi del diritto latino, non lasciare impurito il diritto e non condannare l'innocento. Garantismo quindi per cui significa enfatizzazione della presunzione di innocenza e, nello stesso tempo, certezza della pena. Ma certezza della pena, una volta che è stata erogata l'uomo e il giusto processo, non significa una pena inumana, irreversibile e precluda alla speranza. questo ce lo dice la Costituzione, che vuol dire che la prima della maestra è coinvolgata all'educazione del diritto. Ce lo dice l'etica del nostro cuore, ce lo dice il parentico, categorico che, come insegnava Kant, è dentro la nostra coscienza. E l'ultimo, ma forse più importante, ce l'ha detto il Papa. L'altro giorno l'abbiamo accolto alla Casa Seminale Feminile della Giudecca e abbiamo condiviso il principio dell'eliminazione di quella che si chiama Piano dello Scarto. Cultura dello Scarto vuol dire ritenere che il detenuto, una volta entrato nel momento dell'espiazione, venga isolato dalla società. E in questo carcere della Giudecca, dove si svolge la Biennale Artistica della Santa Sede, vi è un occhio sbarrato, una scultura, diciamo, contemporanea, molto moderna, forse anche di difficile individuazione, che però ha un doppio significato dell'incapacità con la difficoltà dell'occhio del detenuto, di vedere all'esterno, ma anche l'incapacità con la difficoltà del cittadino normale di guardare all'interno delle carceri. Un mondo che sembra proprio quasi metafisico rispetto al cittadino normale di cui nessuno si occupa. Ecco lo Scarto. Come si combatte questa cultura dello Scarto? Innanzitutto si combatte attraverso la certezza della pena. Guai se lo Stato, dopo aver minacciato e interrogato la pena in caso di contorevolezza compromata, non desse esecuzione. Perché parlerebbe contorevolezza e autorità. ma guai se la pena fosse contraria ai principi dell'umanità e della razionalità. Il principio fondamentale della pena, e lo dico da modesto giurista che per 40 anni ha esercitato la funzione di Pubblico Ministero, è quella di essere impossibile certa, impossibile immediata rispetto al fatto, ma anche proprio aggiornata. Il primo giudice del giudice è proprio diputato ai comandanti. Se la pena, se il giudice è troppo severo, ti odia. Se il giudice è troppo generoso, blando, ovile, allora ti disprezza. Se il giudice è equilibrato, che allora ti rispetta. Detto questo, una volta iniziato il percorso carcerario, occorre occuparsi del reinserimento del detenuto. E questo reinserimento può accadere, può avvenire essenzialmente in un modo, attraverso il lavoro. Il lavoro, diceva Voltaire, è quella cosa che ti affranca dei due grandi pericoli della vita, che sono la noia e il bisogno. All'interno del carcere entrambe le cose sono enfatizzate, sono estremizzate e il fardello di dolore che noi portiamo quando assistiamo a un suicidio in cancere, purtroppo vogliamo essere una piaga, sono molto spesso derivati da questo senso di isolamento, da questo senso di incapacità di prevedere il proprio futuro oltre al risalto psicologico da parte dei detenuti. Ecco allora che l'inserimento del lavoro all'interno del carcere diventa un elemento fondamentale per l'inserimento del detenuto. A questi io spesso anche aggiungo un altro aspetto, che è lo sport, l'attività fisica, che non solo serve a rilevare la tensione, ma anche a fare gruppo, perché lo sport se viene esercitato bene è anche lo stimolo alla disciplina, alla solidarietà, se vogliamo anche il superamento ma oggi parliamo del lavoro e io credo che l'esempio che si sta dando una delle più prestigiose cose più prestigiose di questo settore, proprio qui in un istituto presidenziale, sia l'esempio di come si possa coniugare la speranza del detenuto con la solidarietà dell'imprenditoria e vorrei anche aggiungere un'altra cosa come utilità, perché il lavoro all'interno del carcere è produce delle nuove competenze e spesso sono competenze che riguardano settori dove magari gli italiani non vogliono più lavorare, ma ci sono soltanto sarti, confezionatori, ci sono anche carpenteri, ci sono idraulici, ci sono lavoratori manuali, noi abbiamo avuto la condizione di una collega del Mastro, anche altri istituti presidenziali, abbiamo avuto una serie di attività che fino a qualche anno fa sembravano incompressibili, quella che mi ha visto di più dal punto di vista della fantasia è stata la costruzione di violini con il legno delle barche dei migranti, sicuramente non si mangiano questi violini e non si vedono questi tipi di violini, ma danno la sensazione di come si possa appunto coniugare la volontà di direzione, con la fantasia e anche con la bellezza. Nel caso invece dell'impresa Zegna, qui ci siamo trovati, ci troviamo di fronte all'eccellenza dell'eccellenza e la possibilità di vedere uscire da un istituto di detenzione una sorta di arte del manufatto italiano che è una sorpresa che quando sono entrato io in magistratura, ahimè, quasi medio secolo fa, era addirittura impensabile. E aggiungerei un'ultima cosa, il lavoro all'interno del carcere è necessario, ma non è sufficiente. Occorre che vi sia una prospettiva di lavoro anche per chi esce dalla carcere. Perché una volta che hai imparato, tra le barre, nella situazione di detenzione che ne ha una cosa, un'attività, se tu esci e ti trascini appresso il marchio di caino del detenuto, rimani isolato e la tentazione di essere un recidivo nella condizione del reatto, è purtroppo confermata dall'esperienza. Se invece uscendo dalla carcere tu hai già la possibilità di un lavoro decoroso e rifuguito, e allora realmente noi intendiamo quella che chiamiamo recidivo a zero. Questo è un progetto che noi abbiamo iniziato praticamente da quando io mi sono inserito in questa struttura delicatissima che ho l'onore di presedere. Vorrei ricordare che le prime visite cosiddette pastorali che ho fatto dal Ministro ancora un anno e mezzo fa, non sono state dei grandi distretti delle cose d'appello valutate, sia pure importantissime e rispettosissime, ma sono state proprio nelle cazze, nel San Vittore, alle Bibbia, appoggio reale, proprio perché questo è il momento secondo me più dedicato del rapporto tra giustizia, etica e utilità sociale. Sono tre concetti che secondo me devono essere coniugati e lì ho imparato e ho visto che finalmente vi è questa progressione del lavoro con il carcere, ma ripeto non è sufficiente. Il progetto recidivo a zero che abbiamo iniziato con il CNEL e con altre amministrazioni che continuano a crescere perché vi è molto interessivo e molto volontariato. Su questo sono molto grato anche alla Chiesa, con il Patriarca Morale di Venezia, stiamo già dopo la visita del Santo Padre, abbiamo già iniziato perché c'è una serie di iniziative in questo. Ecco, trovare il lavoro a chi esce del carcere, perché una volta inserito, reinserito nella società con una professione retribuita e allora veramente tende a non recidivare più. Questo non è soltanto, ripeto, conforme all'etica, conforme alla religione, conforme alla Costituzione, ma è anche conforme a condività sociale. E quindi, in questo senso, io sono gratissimo a tutti voi che avete avuto questa iniziativa e naturalmente in particolare al Cavaliere Osegna che di questo si è fatto promotore che rappresenta in questo momento la più alta espressione della comunicazione tra lavoro, arte e progetto utile. Grazie.